Buongiorno a tutti, oggi parliamo di mantenimento del figlio maggiorenne in un caso di coppia che scoppia sostanzialmente, di scioglimento del matrimonio. Cosa dice la Corte Suprema di Cassazione? Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento, a carico dei genitori, soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri con conseguente onere probatorio a suo carico di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni. Grazie per l'attenzione, buona giornata!